Perché è andata mia sorella, mia sorella è andata nei partigiani, perché lei se l'era presa col sindaco. Allora, col sindaco e con quelli di Carpinetti, allora c'erano i partigiani e allora dice io vado con loro perché io voglio che questa guerra finisca, la voglio, talmente arrabbiata che, perché dovevo andare in garella al posto di mio padre e mia sorella. Non so se ve l'ho già raccontato che dovevo andare al posto di mio padre. Quando ho visto mio papà non è tornato è andata a vedere, allora mio padre era in prigione, avevano fatto tre giorni. Allora ho detto, beh adesso al posto di mio padre, mio padre deve andare a casa. C'è la famiglia a casa, io sto qui e loro dopo li hanno mandati a casa tutti e due, mio padre e mia sorella. Dopo invece di tenerlo tre giorni l'avranno tenuto due giorni in prigione, perché aveva dato il scaffo al sindaco. Al sindaco si dice, no era il podestà loro, beh, quello stesso. Dopo così venuto a casa, lei era talmente arrabbiata, poi sentire sempre che mio padre era avversario, e poi che c'era questo mio fratello lui che portava a casa un po' di soldi, che lavorava in tanti anni in seminario, allora lui che prendeva la quindicina, allora cominciava a prendere un po' di soldini, e che noi non avevamo più aiuto da nessuno, mia sorella era arrabbiosa come chissà. Lei da piccolina è andata anche lei a servire a Parma. Lei aveva dieci anni, nove, dieci anni, è andata a Parma con una signora. Al mattino faceva le faccendine di casa, al pomeriggio andava con la contessa, la contessa che era poi una signora molto vecchia, cioè che lei faceva la croce rossina, ora se la portava in ospedale, per quello che aveva molto la mania di curare i feriti, di curare la gente, proprio una passione, ecco perché dopo è andata lì nei partigiani, faceva l'infermiera lei, faceva quello che poteva fare, però i puntori, curare delle cose, insomma si impegnava per la gente, per la gente lì del paese, per i partigiani, ma anche per la gente del paese, perché anche, sai, in montagna non c'era niente per nessuno, mia madre, poveretta, che è l'unica che sapeva fare le punture avanti e indietro, la chiamavano dappertutto, anche di notte, perché dopo, poi, io, quando io sono, dopo dice i miei, ma dice, insomma, quella là va a vedere un po'. Dov'è? Allora io sono andata là, e quando sono andata là sono finita dentro un rastrellamento, dentro un rastrellamento, che c'era un ferito con una gamba fracassata, allora mia sorella con degli uomini, e ha detto, mia sorella vieni anche tu, vieni, vieni, e siamo andati a Quaro, di Toano, Quaro, su montagna, poi dopo di lì, siamo andati nel Mordenese, ma io il giorno dopo sono voluta tornare a casa, perché ho detto, dobbiamo dire qualcosa, io devo andare a casa, dire ai genitori, forse a me è che c'era stata una grossa battaglia a Carpinete, si erano ritirati sul castello, ma dopo sono dovuti scappare, proprio, allora io sono andata, io sono venuta a casa, mia sorella non è più tornata a casa per un anno, invece io, finché non è finita la guerra, invece io andavo avanti e indietro, e dopo io sono tornata a casa, e basta, e sono andata una volta o due su, a vedere, ogni tanto i miei mi dicevano, va a vedere un po', va a vedere, erano preoccupati, perché che lei aveva poi 18 anni, finché era magari a Parma, sapevano che era una famiglia, ma sa così, si preoccupavano tanto, allora io partivo una mattina presto, via di corsa, andavo, e l'ho trovata, e poi ogni tanto chiedevo, avete visto una formazione di partigiani, con una donna, che poi erano due, c'erano due ragazze assieme, e ora dopo mi hanno detto, si lo sappiamo dov'è, e mi hanno portato proprio a Gova, proprio là verso il Montepenna, ma lontano, lontano proprio, erano scappati là, perché quei tedeschi di dietro non sono dovuti andare, e lei aveva, lei era sempre più indietro, perché aveva sempre questo ferito da portarsi a dietro, ma non se lo portava a lei, c'era chi le aiutava, però, erano sempre gente senza mezzi, senza un cavallo, senza niente, insomma, allora busavano, improvvisavano delle specie di barelle, delle specie di barelle, li portavano così, dei scaletti, come si dice, delle scale, quattro uomini, li portavano, mettevano un panno, se ce l'avevano, una persona sopra, via, riferite, fatemelo così.